Stefano Di Battista e Morricone Stories è il titolo del concerto jazz che si terrà sabato 27 novembre al Cinema Teatro di Chiasso. È un concerto jazz realizzato in collaborazione con la RSI Rete 2 che presenta questo importante sassofonista della scena italiana, ormai da anni residente a Parigi, che si è ispirato per questo concerto ai temi e alle melodie scritte da uno dei più grandi compositori del Novecento italiano che è Ennio Morricone. Ennio Morricone viene riconosciuto spesso come il più grande compositore di colonne sonore di musiche da film, ma se andiamo a vedere bene qual è stata la sua produzione ci accorgiamo che ha scritto anche tantissima musica da camera, musica sinfonica, musica classica, come potremmo dire musica colta. E dai temi, dalle melodie e dalle invenzioni di Ennio Morricone è tratto questo concerto appunto intitolato Morricone Stories con Stefano Di Battista e il suo quartetto. Quindi un concerto di jazz ma trasversale a quello che è il campo della musica da film e della musica classica. E quindi sabato 27 novembre vi aspettiamo per questo evento, ripeto, realizzato in collaborazione con la Rete 2 che farà anche la ripresa e la registrazione e la diretta dal teatro di questo concerto appunto dedicato a Ennio Morricone. Morricone Stories, Stefano Di Battista.